Sì So tutto Del virus? Sì Come si chiama questo virus? Covid È un verme È un verme, che cosa fa? Infetta le persone Oh, come fa? Se stai vicino all'altro o qualcuno ti bacia, il virus entra nel corpo Guarda È più piccolo di questo bontino È più piccolo di questo bontino? Antipatico Perché? Perché così ci dobbiamo mettere la mascherina e così Qualcuno si può ammalare Mi fate vedere come vi salutate la mattina senza darvi la manina Ecco l'occhiolino Oppure così Oppure così E allora come facciamo a mandarlo via? Se ci mettiamo tutti la mascherina e ci facciamo tutti i vaccini Si lava le mani, si mette il suo infettante e poi i dottori vanno a fare il vaccino ai virus e i virus si spaventano Alcuni sono maleducati e quindi non conoscono le regole E tu che cosa vuoi dire a queste persone maleducate? Rispettate le regole Rispettate le regole così il virus se ne andrà Oh i boh E ti sei arrabbiata? No Perché? Perché sono stata coraggiosissima Amore che hai fatto per essere coraggiosissima? No Io faccio attenzione E che cosa ti piacerebbe fare quando passerà? Viaggiare Ti manca? Sì Io voglio andare tanto a New York perché scommetto che ci sono ricerciti bellissimi Quando passa il virus io vado a Marugio, vado a Liverpool, a Mare di Polignano, a San Vito e a mangiare un gelato all'estate E' straordinario devo dire